Oggi i templi di Pestum, protagonisti della prima puntata della serie Fantasy The Angels Hunter con il tanto atteso Primo Chuck. L'antica Poseidonia è stata scelta dal salientano Giuseppe Motta come teatro del set di uno scenario futuristico, quale culla del mito che sopravvive al tempo. Oltre a Capaccio Pestum si girerà anche da Agropoli a Londra. The Angels Hunter sarà presentato alle più prestigiose case di distribuzione mondiale di serie tv. La scelta di Pestum è casuale o per le origini? Tutte e due, diciamo, per le origini ovviamente, ma anche non è totalmente casuale perché spesso vediamo Pestum vista come Pestum stessa, ma invece se la potessi portare in un pianeta alieno e forse sottoterra e vederla in maniera diversa, sempre usare i templi però con un significato diverso, e vedere un po' darle un'impronta totalmente diversa, ma usare i set in maniera reale, però chiamarla sempre Pestum, però diciamo vederla su un altro pianeta cos'è. Un po' come avevano fatto nelle piramidi in altri film di fantascienza, diciamo che erano elementi alieni, diciamo Pestum vediamo se stava in un pianeta alieno. Coraggioso innanzitutto da parte nostra perché è coprodotto dalla mia Mecanea Produzioni e dalla Maltea LTD di Giuseppe. Noi siamo cresciuti assieme, abbiamo prodotto e realizzato molte pubblicità assieme, documentari e soprattutto in 3D, quindi ci è venuto spontaneo, naturale rischiare sul nostro territorio, rischiare tra virgolette perché il nostro territorio è davvero meraviglioso. Il parco archeologico è unico, è tenuto benissimo e infatti fanno a gara le produzioni per girarci. Noi siamo stati fortunatissimi, abbiamo ricevuto immediatamente un'accoglienza molto forte e calorosa e credo che anche le istituzioni credano in questo prodotto. Abbiamo un cast tecnico d'eccezione tra operatori addetti alle luci e direttori della fotografia e anche attori di un calibro molto forte che hanno partecipato a Trono di Spade e Spartacus, quindi le premesse sono ottime. Speriamo di concretizzare al più presto attraverso i mercati e i canali mondiali delle serie tv. Grazie a tutti!